Ciao ragazzi, benvenuti a Gelt! Iniziamo alovirà giusta per il pollo, però adicurare il corso di crescere e non bene succedere il pollo pollo. Sosti adicurare il pollo alovirà, per il 4 è di come, e il 4 è di più, 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 aspetta un pollo per il tempo! ! Iniziamo! Incluо il tempo quando arriviamo zacатare, è che la nata che indietro è un tiene pollo, va accontenare il campo! Pagmilla pote nella voce panico, nella decalle vi ori patrette e te le citi l'antania. Ori glasmoore di tricchè? Mi chiede a dire che la città è alla vira a pari per io, ori glasmoore io uti, ma grazie in panico pure. Ori glasmoore di tricchè? 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 Ori glasmoore di tricchè?